Musica Ok Fatto Ho fatto il video Così almeno sappiamo come si succede Cosa succede quando arrivano le macchine In questa posizione dove dovrebbe arrivare il pullman E non riescono a passare Il pullman dovrebbe arrivare da qui Da qui Da qua arriva il pullman Che va dritto senza stop da questa parte Mentre quelli che arrivano sull'angolo di qui Rischiano la pelle Che arriva di qui e che arriva di là No vabbè anche questi qui dicono che arrivano da questa parte Si fermano perché sono coscienziosi ma gli specchi servono per il pullman Ma in realtà Gli stop sono troppo Fantastiche queste strisce pedonali qua Sono proprio particolari Va bene Basta così Abbiamo visto la situazione delle nuove viabilità di busto garolfo Che hanno fatto per far passare i pullman C'è qualche problema L'abbiamo visto anche sul fatto che Hanno dovuto togliere i paletti Perché messi per segnare la pista ciclabile E lo spazio pedoni ecco Li hanno dovuti tirare via Perché dal portone dall'altra parte Dove ci sono dei box Non riuscivano a passare